Grazie a tutti voi, a tutti voi che siete presenti molto numerosi sia qui in questa Aula Magna di Fiera Vecchia dove Antonio Tabucchi faceva lezione, per questo è uno dei luoghi in cui faceva lezione quando era professore qui a Siena, per questo abbiamo voluto tenere e terremo anche le prossime lezioni Tabucchi qui. Quindi questa è un'idea che insieme a Maria Rita Di Giglio, a Guido Mazzoni, ad altre colleghe e colleghi abbiamo già da alcuni anni, quella di fare come ci sono appunto le lecture nelle grandi università americane intitolate a dei grandi personaggi che in quelle università hanno insegnato, ci sembra giusto, ci sembra importante ricordare Tabucchi ma non con il solito convegnetto, ce ne sono stati tantissimi anche convenioni importanti che non voglio assolutamente sminuire in queste ultime settimane perché come sapete alla fine di marzo cadeva il decimo anniversario della sua scomparsa, ma vorremmo invece chiedere a degli importanti scrittori intellettuali italiani e non solo a partire da Tabucchi, non tanto di parlare di Tabucchi o anche di parlare di Tabucchi ma a partire da Tabucchi di fare delle riflessioni sullo stato della nostra letteratura, della nostra cultura, su ciò che Tabucchi ha rappresentato, continua a rappresentare per noi. La iniziamo nel migliore dei modi con Emanuele Trevi che ha avuto una grande generosità proprio di fare una cosa, uno dei punti decisivi, Tabucchi e Pessoa e quindi lo ascolteremo, siamo tutti ansiosi di ascoltarlo, prima però dopo questo mio brevissimo saluto ci saranno tre interventi di due allievi di Antonio Tabucchi, Roberto Francavilla che è stato l'ultimo allievo genovese di Antonio Tabucchi e che ha insegnato a lungo qui a Siena letteratura portoghese e Riccardo Greco che pure per alcuni anni ha insegnato qui da noi letteratura portoghese che è stato l'ultimo allievo senese e poi Maurizio Bettini amico di una vita, collega e preside che ha fatto venire qui con lungimiranza, ha fatto venire Tabucchi a Siena. Ci teniamo veramente e siamo molto contenti appunto di questa vostra risposta in un giorno un po' infelice, ci rendiamo conto che oggi è il mercoledì di Pasqua e quindi temevamo di non avere pubblico invece ne abbiamo tantissimo, vorremmo che diventasse veramente un momento di riflessione ogni anno importante qui a Siena nel nome di Tabucchi. Grazie a tutti e a tutti. Dunque il pomeriggio sarà organizzato appunto in questo modo, chiederemo dei contributi al professor Francavilla e successivamente a Riccardo Greco e al professor Bettini e poi chiederemo a Emanuele Trevi di avviare la sua lezione. Quindi lascio la parola a Roberto a Roberto Francavilla. Buongiorno a tutti e a tutte, grazie di questo invito. Sono felicissimo di essere qui. Qualcuno di voi che vedo sa perché. E, vabbè, il professor Pellini ha anticipato che ho insegnato qui, ma ho insegnato per tanti anni, per 16 anni, questa è stata la mia casa e molti di questi anni, la maggior parte di questi anni sono state la mia casa con Antonio Tabucchi, che è stato prima il mio maestro, poi è stato grande amico di una vita. Allora, io nei minuti che mi prendo per ricordarlo, parto da un testo, parto dalla fine, credo l'ultimo testo che è stato pubblicato, che è un piccolo libro, piccolo ma gigantesco, che ho qui fra le mani nella versione trilingue che è uscita in Francia per Chanden, un anno e mezzo fa, più o meno. E non ho il tempo, la mia intenzione, se avessi avuto più tempo, sarebbe stata fare una lettura commentata, perché è un racconto, è un racconto che non finisce, perché Antonio non ha avuto il tempo di finire. È un racconto che finisce interrotto, come forse molte delle cose della vita, e se avessi più tempo vi farei una lettura di tutto il racconto, che non è lunghissimo, commentata. Ma ho pochi minuti e scelgo alcuni passaggi, perché mi rendo conto che in questo librino, lo chiamo così, anche se forse è sbagliato, c'è tutto, c'è il mondo di Antonio. Questo libro è in edizione trilingue e già questo è un dato importante. Lui ha scritto questo racconto in italiano, è stato tradotto in portoghese, è uscito sul pubblico, che è il quotidiano portoghese più importante, il 22 marzo 2015. E poi è uscito in Italia su Internazionale, nello stesso periodo, 26 marzo 2015, e è disponibile in e-book per Feltrinelli. Chanden ha fatto questa edizione, mettendo insieme anche la traduzione dal francese. È un libro che contiene due fotografie di Antonio. La prima, vabbè io non, sono troppo piccole, però la prima apre il volume ed è una fotografia giovanile di Antonio, presumibilmente in Portogallo, perché c'è un politico di Asulegios, di maioliche portoghesi, ed è un Antonio che si affaccia, che ci guarda, che guarda un po' di sbieco, come faceva lui, ma guarda davanti a sé, si affaccia forse da un terrazzo. E poi c'è un'ultima foto invece, che è invece di un fotografo francese, Daniel Mozischi, che è molto bella, però è una fotografia triste, che lo ritrae sul lungo Senna, di spalle, mentre se ne va. E c'è un albero verde molto bello, che ha il colore del suo soprabito, della gabardina, come diremmo utilizzando un lessico pessoano che a lui piaceva molto. Ci sono poi due pagine autografe, dal testo che è stato decifrato dalla moglie, Maria Giuseppe Lancastre, la Zè, che è presente come una specie di fucina, di laboratorio, anche in tutta la storia di studioso di letteratura portoghese e di Pessoa. E questo è un passaggio personale, ma mi sento assolutamente a mio agio in questo luogo, dove anche io ho fatto tante volte lezioni. È un passaggio personale un po' triste, perché io mi sono abituato negli anni a decifrare la grafia difficilissima di Antonio, e l'ho fatto più spesso, scusate, l'ho fatto più volte. E l'altro giorno ero su un aereo, trasvolavo il Mediterraneo, avevo questo libro fra le mani, e ho detto, mi diverto a decifrare di nuovo quella grafia. E mi arrendo all'evidenza di tante cose che possono essere interpretate come voi credete, credete, ma non ci sono riuscito. Mi sono arenato alla prima frase, e questo è stato un po'... non voglio dire una sconfitta, però è un segno di tante cose. Il libricino è chiuso da un testo molto bello di Martin Ruff, che si chiama La preparazione di un grido, perché in realtà questo racconto è la storia di un grido che non viene messo, si intuisce soltanto in un dopo. La storia è molto semplice e molto bella. Si svolge nel 1970 o 71 nel Portogallo rurale, quello che i turisti oggi chiamano Deep Portugal, perché il Portogallo è diventato qualcosa di diverso da quegli anni, ma è molto interessante la periodizzazione, perché il Portogallo è diventato qualcosa di diverso anche dal mio Portogallo. Ognuno ha il proprio Portogallo, perché è passato molto tempo. Ed è la storia di un gruppo di studenti di linguistica che sono guidati da una figura straordinaria, da un professore, e questa è la prima cosa che vedo in questo racconto, nel senso dell'insegnamento, ritorno a questo luogo, all'aula magna di Fiera Vecchia, un luogo molto speciale. C'è una grande figura di professore che esiste veramente, si chiamava Luis Filipe Lindresintra, il maestro della linguistica portoghese, che in quell'anno si prende un gruppo di studenti e se li porta, su un pulmino affittato alla cifra simbolica autista compreso dalla Croce Rossa, li porta nel Portogallo più sperduto, in una regione del nord, che si chiama Trasos Montes, a cercare i parlanti del luogo per studiare il fenomeno del betacismo, che è quella sorta di confusione fra la B e la V che hanno in molte zone della penisola iberica. Quel professore è realmente esistito, era un noto antifascista e il racconto di Antonio è un racconto sulla lingua, sullo studio della lingua, su quello che dovrebbe essere lo studio della lingua. È un dialogo veramente esistito fra Antonio e una sua amica, che si chiama Elena Abreu, che è un personaggio reale, la quale in una conversazione a Lisbona gli racconta di questo viaggio, di lei studentessa con i suoi compagni, che vanno a cercare i parlanti del betacismo. È uno studio sulla lingua, su quello che è la bellezza della lingua e su quello che non dovrebbe essere il nazionalismo di una lingua. Ci sono passaggi molto interessanti, siamo nel 70, nel 71, in un periodo in cui il Portogallo è ancora sotto il fascismo di Sarasar, sta combattendo gli ultimi anni di una guerra terribile che chiama dalla sua parte guerra coloniale e il grido che non viene lanciato, che non viene emesso in questo racconto e che sarebbe stata la parte del racconto che Antonio non ha scritto è il grido che questi studenti, da un certo punto di vista innocenti, ma molto preparati, che stanno ascoltando le voci di questi vecchi, di questo paese, immaginatevi un paese derelitto, abbandonato come il sud d'Europa produce nel nostro immaginario, a un certo punto viene ascoltato, viene lanciato e viene captato da una casa dove c'è una donna che lancia questo grido. Questo grido che cos'è? Semplicemente è la reazione di una madre alla lettura di un telegramma che gli sta dicendo tuo figlio è appena morto in questa guerra che la retorica spietata di una propaganda ti sta facendo credere essere una guerra giusta, un pattugliamento contro il terrorismo africano. Un'intera generazione di portoghesi ne esce a pezzi letteralmente, come si esce a pezzi da una guerra. E il racconto si interrompe proprio su questo grido non lanciato. Allora, le mie parole finiscono qua, però vi leggo soltanto un passaggio, ne ho sottolineati tantissimi, praticamente tutte le pagine, però vi leggo a caso, perché poi qui dentro c'è a livello intertestuale tanta altra materia tabucchiana. Lui è sempre stato molto attento alla lingua, ma non soltanto come espressione culturale e anche fonetica, ma come lingua, come parte della nostra fisiologia, della morfologia, la glottide, la laringe. Ci sono testi bellissimi che parlano di questo. Ma vi leggo, lasciamo parlare lui. Il nostro professore l'hai conosciuto, credo, forse hai anche assistito a qualche sua lezione. Era un uomo magnifico e credeva fermamente nella democrazia e si era anche esposto e la polizia politica gli aveva dato più di un fastidio. Il vecchio professore, come direbbe la grande poetessa polacca, cita la Simborska, se fosse vivo, direbbe, come nella poesia di quell'epoca, è rimasto qualcosa tranne la giovinezza. Ma è morto da tempo e quando penso a lui ho una nostalgia struggente. Di lui, ma non solo di lui, di quei tempi. Vabbè, finisco qui. Grazie. Ciao. Grazie al professor Francavilla. Mi piace ricordare, si dovrebbero ricordare molti lavori e molti volumi, ma perlomeno vorrei ricordare la sua curatela di parole per Antonio Tabucchi, che è uscita per Temini nel 2012, in occasione della scomparsa di Antonio Tabucchi, che raccoglie dei testi di Maurizio Bettini, Antonio Melis e Antonio Prete e Maria Specchio, oltre ad alcuni testi di Tabucchi stesso. Passiamo a un intervento di Riccardo Greco, che è stato un allievo di Tabucchi, del presidente dell'Associazione Culturale Antonio Tabucchi, che sta lavorando in questi mesi, ma lavora dalla sua fondazione, per mantenere, soprattutto per le nuove generazioni, l'eredità di Antonio Tabucchi. Grazie. Grazie a voi, grazie a presenti, grazie alle persone che sono sedute qua con me, che mi fanno un po' in effetto famiglia, questo non so se è un bene o un male. Tu, Roberto, parlavi di tempi e forse dovrei partire proprio da quei tempi, ma non vorrei dilungarmi, allora spendo soltanto un paio di parole sul fatto che rappresento un'associazione che porta il nome di Antonio Tabucchi, appunto l'Associazione Culturale Antonio Tabucchi, nata a Vecchiano, tre anni fa, e qua abbiamo anche un membro particolare, perché il vicepresidente e altri sparsi nella sala sono soci onorari o futuri soci, perché gli studenti, lo ricordo subito, faccio uno spot, si possono associare senza pagare la quota, per cui vi invito tutti a far parte dell'Associazione Culturale Antonio Tabucchi. Poi ci sono anche dei soci, vedo a distanza, da remoto a casa, sicuramente Luigi, Brai e qualcun altro, e mi piacerebbe se si potesse scorrere, vedere se si è riuscita a connettere anche, oltre a Alessandro Foch e Saluto, e a Anna Lucia Pelardinelli, ora tutti i nomi che riconosco, li saluto volentieri, ma soprattutto Maria Giuseppe Lancastre, perché, eccola qua, mi aveva chiesto il link, sì sì, appena sorpassata, per cui è presente, e la colgo l'occasione per ringraziare, per salutarla, e portare quindi i saluti di tutta l'associazione, che dal 2019, quando è nata, e effettivamente però, per ovvi motivi, ha avuto poco tempo per operare, si è adoperata e continuerà a farlo, per, si dice proprio nello statuto, tutelare, diffondere, preservare la memoria e l'opera di Antonio Tabucchi, in linea chiaramente con le sue idee, con i suoi convincimenti. In particolare, quest'anno che ricorre nei dieci anni, dalla scomparsa di Antonio Tabucchi, grazie a un'idea di Paolo Di Paolo, che con la famiglia Tabucchi, quindi con Maria Giuseppe Lancastre, i figli portiamo avanti, è quella di creare un calendario il più fitto possibile di incontri in tutta Italia, in Europa, e nel resto del mondo. Teoricamente, all'inizio, ci eravamo dati, anche così, per non essere troppo superbi, un primo obiettivo, 10 in Italia, 10 in Europa, e 10 nel mondo, ed è incredibile come automaticamente, in maniera spontanea, siano sorti poi tantissimi eventi che non erano in realtà stati preventivati o calendarizzati, per cui in questo momento arrivano i mail, sicuramente le guarderò, le guarderò magari domani, in cui qualche d'uno, in Cina, dal Giappone, in India, in qualsiasi posto, vicino o lontano, chiederà di fare qualcosa, oppure dirà noi facciamo questa lettura il giorno X. Ed è stato bellissimo, per esempio, scoprire come a Teheran, a metà maggio, ci sarà in seno al Festival del Libro, al Salone del Libro, una commemorazione per Tabucchi. Qualche giorno fa c'è stata a Seul lo stesso tipo di iniziativa, e poi ancora c'è stato Parigi, Montpellier, mancano ancora le città della Germania, poi ci sarà sicuramente la Spagna, il Portogallo, che devono essere ancora messi in calendario. Beh, questo è la conferma, ed è una gioia incredibile per l'associazione, per tutti i tabucchiani del mondo, che Tabucchi viene letto e viene amato in maniera viva e costante. Questo penso che sia l'ingrediente principale per continuare a frequentare l'opera e continuare a frequentare anche l'idea che Tabucchi ha trasmesso, che ha trasmesso anche in quest'Aula, e non soltanto in questa, in altri. Mi ricordo che aveva l'ufficio passando, Fiera Nuova, no? L'altra strada, sì, comunque noi passavamo sempre da questo ponticello, è come se ci fosse un Tredunion che gli dà una certa continuità. Erano gli anni, sono arrivato qua nel 97, e non do altre informazioni perché Roberto si è già arrabbiato l'altro giorno a Genova, perché quando uno va troppo in là nel tempo sembra che questo tempo sia stato terribile. Invece no, ci ha portato un sacco di gioie. E proprio in queste aule ricordo le lezioni di Antonio Tabucchi, io ero giovanissimo e Roberto era ai suoi primi anni di insegnamento e abbiamo iniziato un percorso che poi ancora oggi vedo che viene portato avanti e la giornata di oggi ne ha la conferma. Sono veramente grato e ringrazio gli organizzatori per questa bella iniziativa con la speranza che si possa chiaramente portare avanti negli anni a seguire. Ma faccio un passettino indietro. Prima di quel 97, nel 96 io ancora portoghese non lo conoscevo. Leggevo quindi le traduzioni fatte da Antonio Tabucchi e chiaramente leggevo Antonio Tabucchi perché non sto qua a fare la mia storia personale ma molti di voi probabilmente sapranno che essendo amico di mio padre io già in qualche modo lo frequentavo, avevo un pochino così di legame più facile, più diretto con la famiglia Tabucchi. Nel 96, decidendo cosa avrei fatto poi l'anno successivo, mi imbattei in alcune poesie di Fernando Pessoa che lessi e lessi anche grazie appunto alla traduzione di Antonio Tabucchi e mi segnai in questo foglietto l'incipit di una poesia di Riccardo Reis che fa parte delle Odie ed è del 32 che allora mi rimase impressa perché avevo la psicologia di un tardo adolescente e ve le leggo queste due frasi e poi ve le traduco all'impronta, spero di farcela. che vuol dire che nessuno ama un altro ma ama ciò che nell'altro vede di sé o che suppone che ci sia. Poi continua ed ha anche un altro significato al resto della poesia ma io me la scrissi questa frase su un post-it che attaccai all'armadio della mia cameretta di studente era 1996 avevo quindi 18 anni insieme a altre cose che dovevo ricordare anche quelle funzionali all'interrogazione del giorno dopo di una materia che magari mi era risultata difficile perché ero convinto che alzandomi e trovando davanti sempre la stessa frase avrei in qualche modo instaurato un rapporto mnemonico nel caso dell'esame oppure una frequentazione letteraria con queste stesse parole e in effetti al di là dell'interpretazione primaria tardo romantica ad adolescente queste parole me le sono portate dietro fino a capire una cosa che l'amore che per lì pensavo che fosse rivolto nei confronti di una fanciulla per esempio poteva essere in quei teneri anni in quei teneri 18 anni poteva anche in realtà essere verso un ideale verso una letteratura verso uno studio verso un personaggio verso un maestro ed è stato proprio poi nei primi negli ultimi anni 90 e nei primi anni 2000 che questa frequentazione con Antonio Tapu che è diventato proprio una spiegazione possibile di questi primi versi della poesia di Riccardo Reis cioè quello che io cercavo in una persona si è trasformato poi in un maestro per il proprio perché conteneva in nuce conteneva un qualcosa che io poi avrei sviluppato per conto mio da lì allora la scoperta di cosa di un'alterità l'alterità per me voleva dire viaggiare per la prima volta in Portogallo nel 97-98 quando ancora non c'era Ryanair passare un Natale da solo e confrontarmi con una lingua che ancora non conoscevo oppure anni dopo studiare il sertão brasiliano per andare a scoprire un posto meraviglioso ma per me lontanissimo remoto veramente di confine quale appunto era il nord-est del Brasile ed ecco che da qui nasce un amore ecco allora dopo tanti anni ormai sono passati più di vent'anni tornando a rileggere questo fogliettino che era attaccato sul mio armadio e dico cos'è quella cosa che io amavo e che cercavo nell'altro ma che in realtà rispecchiava me era una conferma di un qualcosa che avevo voglia di sviluppare ecco allora alle nuove generazioni e poi cerco di concludere di passare la parola a Maurizio Vettini che era qua quando io sono arrivato e neanche un altro di quei motivi per cui sono venuto molto volentieri a studiare a Siena oltre che per Tabucchi anche per Maurizio Vettini è proprio questo cercate se non il maestro quella strada che secondo voi potrà rispondere a questa domanda cioè cos'è che voi amate di voi stessi e che cercate nella vita di tutti i giorni fuori nell'alterità intorno a voi che sia la letteratura che sia il diritto che sia la storia che sia la vita di tutti i giorni e questo è un po' forse riassumibile anche in quello che diceva Pereira bisogna guardare al futuro e la ragione del cuore sono le più importanti e vi ringrazio ancora passo la parola grazie grazie a Riccardo Greco e ora passo volentieri la parola al professor Maurizio Vettini ricordo che nel 1991 fu proprio lui come preside della allora facoltà di lettera chiamare Antonio Tabucchi allora sì è già stato nominato il 1991 e ahimè queste sono le date e appunto nel 1991 Antonio Melis un collega che io non cesso di rimpiangere diciamo di cui ho sempre nostalgia venne nel mio studio di allora preside della facoltà di lettere e filosofia di Siena per dirmi che Antonio Tabucchi scrittore già ormai molto celebre e professore di letteratura portoghese all'università di Genova si sarebbe volentieri riunito alla nostra facoltà cosa mi colpì incontrai Tabucchi personalmente poi poi portai il come si diceva allora la chiamata in questa aula esattamente lo teniamo ai consigli di facoltà e chiamammo felicemente Antonio Tabucchi come professore di lingua e letteratura portoghese nella nostra facoltà nei vent'anni che sono seguiti poi a questa incontro a questa chiamata molte cose mi unirono a Antonio Tabucchi particolarmente importanti dentro e fuori la facoltà di lettere un'amicizia e anche altre cose che possono interessare meno chi mi ascolta ma interessano molto me nel senso per esempio che mia figlia vive da vent'anni in portogallo in portogallo per merito o colpa di Antonio Tabucchi ancora non non saprei dirlo ma è per lui per la passione che lui serve suscitare in lei per la letteratura portoghese per il portogallo eccetera e in tutti quegli anni appunto di frequentazione ed amicizia ricevetti anche da Antonio numerose telefonate notturne perché Antonio amava molto telefonare di notte come sanno chi l'ha conosciuto e telefonava di notte all'amico e collega classicista per chiedere informazioni per esempio sulle nereidi non ricordo una perché nel poema di Camoens si parla di tutto quindi anche nelle nereidi ovviamente su Penelope su Circe una volta mi sentì anzi arrivare a una telefonata non notturna per la verità da Paolo Mauri che allora era direttore della pagina di Rigeo la pagina culturale di Repubblica il quale mi disse che c'era lì un professore della Università di Salamanca che era molto interessato ai miei studi di mitologia che me l'avrebbe passato eccetera il professore di Salamanca si presentò molto cerimonosamente mi chiese cosa mi stupiva un po' il professore di Salamanca voleva parlare con me di mitologia da Repubblica per strano io comunque ascoltavo mi chiese informazioni sulle varie ninfe delle acque del mare poi a un certo punto mi chiese anche informazioni sulle ninfe dell'agua Mineral e a quel punto capì che Antonio e Paolo Mauri siano divertiti a fare la parodia di una delle telefonate notturne di Antonio ora che lui ci ha lasciato da oltre dieci anni da dieci anni tante volte non sembra vero perché ancora mi sembra di sentire la voce di Antonio mi sono chiesto che cosa vorrei che ci rimanesse di lui più di tutto la prima risposta che mi sono data è certamente la passione civile l'impegno civile di cui sempre più si sente la necessità in questi anni così confusi caratterizzati da tanta stupida credulità e tanta esibita diffidenza e cinismo eccetera forse una voce forte come quella di Antonio oggi sarebbe più che mai necessaria ma altrettanto se non di più io vorrei che di lui si ricordasse soprattutto lo stile perché Antonio era uno scrittore e aveva uno stile straordinario e quindi spero che in queste lezioni che si faranno e si continueranno a fare Antonio Tapu che si si parlerà anche di questo perché un po' come avvenne per la mia generazione con Eugenio Montale Tapu ci ha insegnato un'altra volta a scrivere ci ha reinsegnato uno stile e per chi voleva impararlo naturalmente per chi voleva avere la passione reale per la scrittura e allora ci ha trasmesso Antonio un altro modo di ritagliare il mondo e di ricomporlo intorno a noi ecco che è poi il vero significato della parola stile perché solo un ingenuo o qualcuno che davvero non ama la scrittura non ci crede può pensare che lo stile di uno scrittore sia solo una cifra un'atmosfera qualcosa che avvolge dei pensieri che però si potrebbero esprimere anche in un altro modo ecco non è così lo stile incide direttamente sulla costruzione del mondo narrativo è la costruzione del mondo narrativo per questo io mi permetto di dire percepisco dato che non sono un critico letterario quindi la mia voce non conta ecco per questo io precipisco in tanti scrittori italiani contemporanei che pure sono bravi proprio l'assenza di uno stile che sia capace di costruire il mondo molto spesso raccontano ciò che c'è soprattutto ciò che c'è dentro di loro perché non è sempre bello ma non sanno far resistere ciò che non c'è questo è lo stile far resistere quello che non c'è questo non significa che lo stile abbia bisogno di chissà quali lambiccati artifici no è esattamente il contrario prendendo la scrittura di Antonio l'ingresso di un oggetto anche insignificante l'evocazione di un personaggio e soprattutto la punteggiatura perché la punteggiatura è come la bacchetta del direttore d'orchestra no è quello che dà il ritmo quella che fa che fa andare e che facendo andare anche costruisce ecco lo stile vuol dire saper distribuire la punteggiatura con la stessa fantasia del direttore d'orchestra e creare la musica e lo stile di Antonio ha questa capacità solo mettendo una pittura dove uno si aspetta un punto non mettendo niente facendo un salto eccetera di colpo ti fa sospettare che dietro la realtà che lui sta raccontando ce n'è un'altra e poi ce n'è un'altra ancora e ce n'è un'altra ancora anche dietro di noi ecco questo mi sembra il come dire la cifra dello stile di Antonio far creare un mondo attraverso le parole ecco meglio l'ordine delle parole la disposizione delle parole che è così difficile nella letteratura l'unico paragone che mi viene in mente è quello di Federico Fellini Fellini aveva la stessa capacità di prendere oggetti insignificanti personaggi più o meno banali o bislacchi metterli insieme dargli un ritmo la direzione d'orchestra la musica eccetera e far esistere una realtà che non c'era e crearla ex novo non raccontarla farla esistere che è una cosa diversissima io mi permetta a questo punto anche per sostituire alle mie le parole di Antonio sono molto più belle di leggere brevemente un l'inizio di un racconto di piccoli equivoci senza importanza il racconto si chiama gli incanti per esempio vedi questi sono i piedi di mio padre io li chiamo Costantino della Gazette che fu l'ultimo imperatore di Bisanzio un uomo valoroso e infelice lo tradirono tutti e lui morì da solo sulla breccia della città ma a te sembrano solo due piedi di celluloide li ho trovati sulla spiaggia la settimana scorsa il mare a volte porta pezzi di bambole ho trovato queste due gambe e ho capito subito che si trattava di papà che da dove si trovava mi mandava la raffigurazione dei suoi piedi per venire incontro al mio ricordo l'ho sentito non so se capisci e io e io le dicevo beh sì certo che capiva ma insomma potevamo anche fare un altro gioco un gioco all'aperto nel giardino in casa dormivano tutti era così avventuroso sgattaiolare fuori quando tutti facevano il pisolino pomeridiano e la casa era immersa nel silenzio comunque se proprio non le andava potevamo stenderci a pancia in giù sul tappeto di camera sua e leggere il fantasma dell'opera questa volta non avrei fatto il minimo movimento per non disturbare la sua lettura promesso mi piaceva così tanto quando lei leggeva con la sua voce sussurrante vicino al mio orecchio mi pareva di sognare sarò il tuo umile ascoltatore giuro Cleliuccia e in quel momento mi accorgevo di aver rovinato tutto avrei voluto prendermi a schiaffoni accidenti alla mia sbarataggine che mi faceva sempre confondere Cleliuccia con Melusina la strega infelice due piedi apparizioni inattese l'immediata e ancor meno attesa associazione con l'ultimo imperatore di Bisanzio Costantino Dragasete il quale sostituendosi bruscamente ai piedi iniziali per un paio di righe si prende tutta la scena con la sua patetica e coraggiosa morte poi la celluloide che svela la vera natura dei piedi la spiaggia il mare che si direbbe sets the place costruisce lo sfondo per tutto il resto del racconto che deve essere ambientato in una villa che sorge in una località banneare poi il babbo il padre i padri insomma assenti il cui vuoto è riempito da oggetti portati dal mare come i piedi di celluloide ovvero Costantino Dragasete poi l'ingresso della voce un po' impacciata del secondo personaggio che è nello stesso tempo il narratore che piano piano si disvela bambino e per contro disvela lei bambina dunque e la lettura di un'opera peragrazi ma perturbante come il fantasma dell'opera e poi il fascino incantatorio di lei che legge sussurrando già costruita cleviuccia la piccola inquietanta padrone del racconto con i suoi immanenti malefici le premonizioni l'occhio roteante che verrà dopo col difetto focale sinistro che a volte la rende un mostro e la chiusura su melusina la strega infelice non cleviuccia perché era questa la vera natura una natura melusinica della piccola amica sono solo poche battute scandite da l'avete sentito da una punteggiatura lieve che fa fluire il discorso la voce anzi le voci come un ruscello che scivola fra i sassi dopodiché il racconto prende a correre se lo leggete tutto se lo ricordate è così corre attraverso incanti sorprese sprazzi di vita normale c'è una signora tutta felice perché si è sposata una seconda volta e poi si è terrorizzata da queste stranezze della figlia questa cleliuccia melusinica poi arriva una lancia aprilia rossa che sfreccia sul lungomare senza essere mai esistita l'incidente della domestica che si brucia le gambe ah guarda tornano le gambe i piedi come all'inizio come quelli che aprono la scena e poi la chiusura del racconto sarà ovviamente su Costantino Dragasete dopo l'attacco che vi ho letto la narrazione insomma prende a correre con velocità sempre maggiore al modo in cui Tabucchi stesso in una intervista a Carlos Gumbert la cui traduzione è stata recentemente pubblicata da Feltrinelli si chiama Zig Zag descrive la sua scrittura proprio in piccoli equivoci senza importanza cosa dice Antonio della sua scrittura in questi racconti è possibile che in questo libro il piacere di scrivere che provo spesso si sia imposto di più rispetto al solito sul mio autocontrollo e che mi abbia fatto perdere quella severità che cerco sempre di mantenere nei confronti di me stesso d'altra parte però è in dubbio che la scrittura sia anche un'intensa forma di godimento e trovo normale che ogni tanto ci si lasci trasportare dell'allegria che traiamo dalle nostre occupazioni perché non si dovrebbe fare allo scrittore questo tipo di concessioni ecco parole scritte che vi ho letto ma molti ricorderanno come allo stesso modo potesse accadere che parlando con Antonio soprattutto ascoltandolo parlare si generasse lo stesso piccolo miracolo che illumina i suoi racconti quel lasciarsi trasportare che produceva la nascita di una realtà altra diversa nutrita del suo stesso andare uno scorrere di fantasia di ironia di oggetti di personaggi evocati che si combinava in un piccolo mondo che prima non c'era ma che ora prendeva forma attraverso la sua voce il suo stile di pensiero di discorso era lo stesso del suo stile di scrittore un parlare con pochi punti un fluire di parole attraverso segmenti marcati al massimo da qualche virgola vocale una musica di pensieri e di suoni che nel suo toscano in vero semplice non fiorentinamente o senesemente ricercato molto semplice molto schietto aveva però il potere di dare esistenza a quello che non c'è ossia fare ciò che fino dalle più remote antichità costituisce il compito e il dono di ogni parola scritta o pronunziata se si possiede uno stile grazie grazie a maurizio Bettini per questo prezioso intervento e ora lascerei la parola a Emanuele Trevi per la sua lezione Tabucchi e Pessoa tra filologia e invenzione mi piace ricordare che il primo corso che tenne Antonio Tabucchi all'Università di Siena era intitolato la figura e l'opera di Fernando Pessoa e siamo molto felici che proprio Emanuele Trevi inauguri questo ciclo di lezioni Emanuele Trevi non ha bisogno di presentazioni ricordo solo qualche sua pubblicazione recente il libro Due vite di Neripozza uscito l'anno scorso nel 2021 che ha vinto il premio Strega sogni e favole uscito nel 2019 e ricordo anche qualcosa di scritto uscito nel 2012 per Ponte Alle Grazie e mi piace anche ricordare la sua attività di saggista e le sue acute e profonde introduzioni a volumi molto importanti ricordo solamente l'introduzione della nuova edizione del male oscuro di Berto per Neripozza e una recente introduzione alle lettere dall'Egitto di Flaubert uscita nel 2021 e proprio nelle introduzioni in questi testi diciamo solo apparentemente marginali che credo che l'occhio lo stile di cui parlava Bettini di uno scrittore esca fuori molto bene e proprio ripensando alla lezione al titolo della lezione che ha dato Trevi per questo incontro ho ripensato alla sua introduzione al volume di Minimum Fax intitolato Un uomo pieno di gioia di Cesare Garboli che è uscito l'anno scorso credo ed è un saggio di Cesare Garboli raccolto negli scritti nella raccolta scritti servili ma che era l'introduzione all'edizione di diari di Antonio Delfini curati da Giovanna Delfini e da Natalia Ghisburg di cui ora sta uscendo è uscita o sta per uscire una nuova edizione integrale per Enaudi se leggete l'introduzione di Trevi a questo volume di Cesare Garboli vi renderete chi non la letta si renderà conto non solo dello stile di Trevi ma dell'occhio della capacità del taglio di riuscire a individuare le linee le connessioni tra in questo caso un critico letterale uno scrittore e il rapporto che aveva Cesare Garboli appunto con con i diari di Delfini e quindi leggo solo un paragrafo di Emanuele Trevi quando siamo giovani raramente siamo capaci di attribuire un significato un giusto valore a quello che viviamo eravamo lì ma non capivamo e quando diventiamo in grado di vedere nella memoria quello che non vedevamo nel presente ecco che è toccato anche a noi invecchiare si direbbe che viviamo solo per comprendere troppo tardi ciò che abbiamo vissuto ma il tardi non è una categoria uniforme salto perché se nulla dura nella vita nulla è stabile nella memoria capita fin troppo spesso che interroghiamo un fatto del passato che non ha più o non ha ancora qualcosa da dirci ogni spettro insomma ha la sua ora e quando Garboli iniziò a scrivere Delphini si presentò puntuale in tutta la sua bellezza e originalità di essere umano ed era così vero così evidente che ogni volta che rileggiamo questo piccolo capolavoro la sua identità e la sua diversità ballano anche di fronte ai nostri occhi ringraziamo Emanuele Trevi e lo ascoltiamo nella sua lezione su Tabocchi e Pessoa tra filologia e invenzione Grazie Grazie a tutti e grazie anche per avermi messo nella disposizione d'animo migliore e più incoraggiante con questi interventi che mi hanno preceduto l'intervento del professor Bettini che è anche un po' crudele riguardo all'assenza di stile di tanti noi scrittori contemporanei mi ha fatto venire in mente quello che proprio possiamo definire al di là della mancanza credo che siamo oggi tutti accomunati dal fatto che Antonio Tabocchi ci manca molto ci manca molto per motivi che possono essere privati di amicizia come motivi che sono i motivi dei semplici lettori che hanno beneficiato di quell'allargamento del mondo che poi è il significato più profondo e più reale dell'opera di Tabocchi nel racconto nel romanzo nel saggio non sto a distinguere i generi di scrittura penso proprio al risultato complessivo e mentre parlavo dice come si potrebbe definire appunto questa necessità che poi è quella che ci porta a conservare con un particolare anche religiosità i libri di uno scrittore mi è venuta in mente una cosa che diceva disse Gianni Celati altro grande rimpianto altra grande personalità che ci manca all'indomani della morte di Italo Calvino scrisse un articolo sul manifesto che ho sempre conservato che diceva una cosa semplicissima per far capire l'importanza diceva provate a immaginarvi gli scaffali della vostra libreria senza i libri di Italo Calvino e con questa semplice mossa retorica di far immaginare al lettore ciò che lui stesso vuole esprimere e aveva ottenuto il massimo grado di visibilità di quella che è un'eredità cioè è addirittura impossibile diceva Celati che cos'è una libreria che cos'è una non è una biblioteca è una libreria privata che pensava lo scrittore ecco pensate la amputata sarebbe tutto diverso sarebbe un'altra storia non saremmo parte di quella storia che ci è toccata in sorte e che con i nostri poveri mezzi cerchiamo magari di proseguire ecco io dico la stessa cosa proviamo a immaginare due scrittori ma io penso questo è un discorso che riguarda credo gli scrittori europei nel loro complesso non solo quelli italiani visto la diffusione nel nostro continente dell'opera di Tabucchi è davvero difficile immaginare la nostra biblioteca senza i suoi libri i suoi libri hanno veramente aperto possibilità di esperienza di pensiero e di scritture con una generosità che ha dello straordinario quando Guido Mazzoni per venire in argomento mi ha proposto una lezione su Tabucchi immediatamente sono andato a a cercare con la mia mente un luogo di massima ce ne ho tanti di massimo gratitudine di massimo debito e devo dire che avendo avuto una formazione da studente da da apprendista stregone da principiante che è stata assegnata da da un'impresa impresa firmata da Antonio Tabucchi assieme a Maria José de Lancastre che è la la grande edizione intitolata genialmente è una sola moltitudine uscita tra il 1979 e il 1984 sarò un po' pedante in fatto di date ma il discorso che voglio fare le date hanno una loro importanza hanno una loro significatività culturale che cercherò di esplicitare ecco questi due volumi che sono rispettivamente il numero 86 e il numero 138 della biblioteca Delfi hanno avuto su di me ma penso di parlare anche per un'intera generazione di ragazzi che amavano la poesia che cercavano di annodare il senso del loro lavoro all'interno della grande tradizione del nostro secolo ecco non riuscirei a indicare un libro più irrinunciabile di questo questa grande antologia che è un'antologia che assieme diciamo all'ortonimo a Fernando Pessoa presenta i maggiori eteronimi tutti dotati di una scheda di una descrizione della loro personalità ha avuto un impatto che non credo che abbia confronti possibili intanto per un motivo oggettivo questo è al di là della capacità poi dei curatori di inventare come suggerivo dal titolo della mia lezione Fernando Pessoa intanto per un fatto oggettivo che è molto raro nella storia proprio del nostro lavoro della nostra attività di critici letterari di studiosi di storici della letteratura diciamo l'occasione di mettere nella circolazione culturale un portento come è quello che rappresenta da Fernando Pessoa se devo riferirmi a quegli anni mi viene solo un nome in mente come presenza nuova e dirompente come quello che si chiama la scoperta che poi cambia anche il senso del passato da cui proveniamo che è quello della poesia di Josip Brodsky ecco non vedo a queste altezze ma questo è naturale questo non vuol dire che non ci siano state edizioni e studi di la costellazione modernista diciamo sperimentale del novecento che è quella di cui siamo figli a un tale numero di protagonisti di stelle maggiori o minori che certamente qui non stiamo a fare delle classifiche noi parliamo semplicemente di un portento naturale ecco se vogliamo fare una metafora alpinistica Pessoa e Brodsky sono due ottomila sono delle delle concrezioni di genio all'interno di una lingua che si realizzano molto raramente all'interno delle tradizioni letterarie quindi diciamo che questi due volumi che ecco per esempio una testimonianza che posso fare stavano dappertutto erano nelle mani di tutte erano nelle mani dei lettori più inquieti erano delle mani delle persone che facevano teatro delle persone che si occupavano di musica era una diffusione insomma che non riguardava solamente un ambito di appassionati ristretto di appassionati di poesia del novecento è qualcosa che ebbe un influsso un impatto anche diciamo una banalizzazione perché chiaramente il mondo fu inondato di citazioni di Pessoa a partire dal poeta e un fingitore e voi sapete che le citazioni se da una parte sono la più grande gloria di un autore Derrida diceva le virgolette sono il tribunale del pensiero sembrano una cosa più vera ma sottraendo proprio dal loro contesto le frasi l'esempio più chiaro è quello del poeta che è un fingitore se noi leggiamo la poesia l'idea che il poeta sia un fingitore è perlomeno molto complicata dal gioco dalla giostra verbale di Pessoa però anche quello diciamo fu un indizio dell'impatto ecco la seconda volta che mi capita questa parola proprio quasi scioccante cioè l'edizione di Antonio Tabucchi e Maria Cosè dell'Ancastre ha completato un paesaggio nel suo tassello essenziale ma non è semplicemente Fernando Pessoa è che Fernando Pessoa è stato posizionato all'interno di una tradizione che è quella del diciamo che io definisco del modernismo o dello sperimentalismo dello scorso secolo in maniera tale che non abbiamo più potuto parlare dei surrealisti francesi o dei nostri futuristi molto sbeffeggiati tra l'altro da Tabucchi nel confronto che ne fa col futurismo di Pessoa o con tutto quello che riguardava anche lo sperimentalismo poi degli anni sessanta se non alla luce di questo grande maestro insomma abbiamo cominciato a studiarlo da quei due libri non abbiamo mai finito di leggerlo di tornarci sopra anche di aspettare con avidità gli inediti le nuove le nuove edizioni ricordo solo l'edizione nuova di Collo con l'introduzione di Corrado Bologna del libro dell'inquietudine che è venuto tanti anni dopo magari possiamo anche dire oggi conosciamo di più su Pessoa rispetto a quell'edizione senza nulla togliere appunto al carattere geniale e alla capacità appunto di generare quella che è una vera e propria scoperta tabù che ha fatto conoscere tanti luoghi del mondo alcuni ne sono stati ricordati prima io sono uno di quei ragazzi che ha fatto il primo viaggio in India con il tasco notturno indiano quindi figuriamoci un aspetto di abbiamo perlustrato Lisbona sulle tracce dei luoghi di sostiene Pereira o dei racconti precedenti ecco questa cosa di Pessoa non è diversa quell'universo verbale è stato come un continente lui ne ha loro anzi perché parlo di due curatori ne hanno tracciato la mappa e ci hanno permesso questa specie di viaggio che poi non è mai finito così come torniamo in India o almeno speriamo di tornare vista l'apocalisse in cui versa il mondo così torniamo forse più facilmente dal punto di vista perlomeno pratico materiale su quella su quella su quell'impresa perché è anche stata un'impresa di traduzione vedete non è che poi le cose sono è stata non è stata semplicemente la diciamo la presentazione di un grande autore è stata proprio una forma adeguata qualcosa che a vedere con quello che il professor Bettini chiama lo stile ancora in questo caso come possibilità di creare evidenza come possibilità che lo stile è quello che permette allo scrittore e al lettore di vedere la stessa cosa figuriamoci se non è importante lo stile nel discorso che si fa su un grande poeta che sia Leopardi che sia Gottfried Ben o che sia Fernando Pessoa altre due date accanto appunto a quelle dei volumi 79-84 per dare un quadro di questo investimento così significativo sull'opera di Fernando Pessoa 1990 Tabuchi pubblica da Feltrinelli assieme all'introduzione a una sola moltitudine ha altri suoi scritti preziosissimi su su Pessoa ricordano solo la nota al Faust accumulati nel tempo non è assolutamente un libro raccoglitice un libro straordinariamente significativo proprio del percorso intellettuale di Tabuchi e della sua lunga fedeltà a Pessoa con un appendice di traduzioni che è di per sé straordinaria perché ci sono delle pagine meravigliose di in questa antologia e anche qui se era difficile trovare un titolo geniale come una sola moltitudine Tabuchi riuscì o chi lo consigliò riuscì a duplicare l'impresa perché anche un baule pieno di gente è un titolo straordinario sono due titoli vedete che danno l'idea della eccezionalità dell'esperienza di Pessoa che è anche proverbiale però vale la pena di ripeterla di ricomprenderla una sola moltitudine un baule pieno di gente alludono a uno scrittore che diventa una letteratura a uno scrittore che diventa uno scrittore importante diciamo il Fernando Pessoa ortonimo che diventa a sua volta la matrice generativa di una serie di poeti grandiosi gli eteronimi hanno tutti una loro personalità hanno tutti una loro destino hanno tutti una loro biografia a volte scrivono l'uno dell'altro a volte non si stanno nemmeno simpatici come poi nella mente di ognuno di noi che è fatta di varie componenti che sono il litigio tra loro sì certamente questa è una parte dell'interpretazione che possiamo dare di Pessoa ma nello stesso tempo non è così facile perché gli eteronimi sono persone reali e chiunque abbia la conoscenza più o meno approfondita dell'opera di Pessoa e l'opera di Pessoa è così coinvolgente così sottilmente attraente che prima o poi la conoscenza anche dei dilettanti come posso essere io diventa approfondita imparerà a a conoscere gli eteronimi non solamente come un'ombra fugace di una proiezione ma come qualche cosa un contenuto psichico perlomeno molto più importante di quello che può essere per esempio uno pseudonimo tant'è vero che io non non credo possibile che nella letteratura si possa ripetere un fenomeno come quello del rapporto della costellazione formata da Fernando Pessoa e dai suoi eteronimi chiudo questa rassegna di tappe col 1994 perché nel 1994 Tabucchi pubblica un racconto lungo diciamo una novella direi proprio dal punto di vista tecnico che è intitolata gli ultimi tre giorni di Fernando Pessoa dal punto di vista di quello di cui voglio accennare di cui voglio parlare me ne occuperò di meno ma non per questo voglio svalutarne la bellezza e la capacità di commozione perché è un è il racconto degli ultimi tre giorni di vita di Fernando Pessoa in ospedale è scandito dalle visite degli eteronimi anche quelli morti vanno a trovarlo vanno a trovarlo e gli rivelano delle cose che lui stesso non sapeva tanto per dare l'idea di come genialmente Tabucchi ha continuato a inventare questo personaggio che esisteva davvero che è estratto dalla realtà che probabilmente conosceremmo lo stesso se non ci fosse stato Antonio Tabucchi ma conosciamo in quella maniera perché c'è stato questo lavoro perché c'è stato questo grande investimento ecco diciamo che quello che veramente per me costituisce non solo un debito in senso vedete io poi nella vita non ho non sono anche se sono stato diciamo con troppa generosità presentato per questa occasione io non sono uno studioso sono più che altro un divulgatore un giornalista qualcuno che cerca di fare il suo mestiere con scrupolo ma magari non ha mai avuto tempo di approfondire o di darsi l'occasione di imprese di questo genere però permettetemi di dire che se non le so fare le so valutare le so ammirare ecco lo scritto su cui volevo cominciare a concentrarmi è proprio l'introduzione a una sola moltitudine l'introduzione a una sola moltitudine vorrei sgombrare prima di parlarne l'equivoco che ogni tanto può venire fuori da una formula che è o col trattino o con la congiunzione noi diciamo molte volte un po' banalmente critico scrittore oppure critico e scrittore come mettendo in imbarazzo entrambe le categorie perché in qualche maniera siamo portati nel discorso comune nella percezione comune nella frettolosità di alcuni giudizi di non capire quali sono le poste in gioco in questa maniera perché se noi abbiamo la visione provinciale del fatto che Tabucchi sì scriveva i suoi meravigliosi racconti era l'autore già di libri giovanili straordinari voglio solo citare i piccoli equivoci senza importanza il notturno indiano donna di Porto Pim insomma i grandi testi della sua giovinezza e poi in qualche maniera deve fare anche lo studioso di letteratura però è troppo bravo ormai a scrivere e quindi scrive una bella introduzione a Pessoa noi non abbiamo raggiunto niente anzi diciamo che la storia della critica come sappiamo tutti è costellata da cose scritte bene del tutto insignificanti anche perché con una lingua come quella italiana diciamo lo scrivere bene è un fatto abbastanza comune alla cultura umanistica non rischiamo in questa maniera di perdere completamente il senso dell'impresa cognitiva di di Tabucchi rischiamo di perdere completamente la sua esemplarità noi qui oggi siamo in una sede accademica io purtroppo a causa Covid sono lontano da voi avrei voluto molto vedere il posto dove insegnava Tabucchi e vedere tutti voi però insomma questa è una cosa che ci tengo perché appunto immagino che nel pubblico ci siano tanti studenti tante persone ancora alla ricerca faticosissima di una propria strada allora ecco io cercherò di essere il più preciso possibile per manifestare un quello che è il mio debito di gratitudine quello per cui posso dire che questi due volumi di Fernando Pessoa hanno veramente cambiato il corso della mia vita hanno e sono rimasti per me un modello esemplare della descrizione di un'impresa artistica il problema non è quello appunto di fare della normale critica benissima critica letteraria e infiorettarla con qualche bella metafora con qualche colpo di genio perché uno è Antonio Tabucchi perché uno la vuole fare più elegante perché ci sono degli stili che possono andare dal più secco accademico al più la posta in gioco di Fernando Pessoa era troppo importante la posta in gioco di Fernando Pessoa non si rende evidente se non all'incrocio della filologia dell'arte narrativa e questo il problema non è una scelta il fatto che questa introduzione di Tabucchi sia così bella non è una scelta accessoria e secondaria quella che noi percepiamo come bellezza interesse narrativo di questo testo è necessaria dal punto di vista proprio dell'intendimento che poi è il punto di vista primario di ogni tipo di filologia di quell'impresa quell'impresa non viene fuori con un metodo che è quello prevalente in quegli anni come una specie oggi si parla tanto di pensiero unico ecco chi ha studiato materie letterarie in quegli anni ha un'esperienza di che cosa era il pensiero di che cosa può essere un pensiero unico no? E all'interno di questa cosa l'opera di Tabucchi io di questo ne ho una memoria proprio che potrei anche confortare di aneddoti precisa è considerata né più né meno che un'eresia perché il mondo degli studiosi che in generale è il mondo che produce persone che si assumono anche la responsabilità maggiore come quella appunto di mostrare quello che ho definito un 8000 della storia della poesia è un mondo in quegli anni che si muove anche con risultati degnissimi io non farò qui un discorso partigiano io voglio solo evidenziare il carattere eccezionale di questa di quest'opera che si muove attraverso quella che è un ideale o un'ideologia che è fondata su criteri di analisi e descrizione dei fenomeni letterari in cui diciamo già l'opera considerata nella sua totalità non ha molta fortuna e diciamo che l'opera sia prodotta da un essere vivente è addirittura qualche cosa che in quegli anni in quella cultura accademica è considerata un fatto del tutto negativo un fatto che viene sconsigliato dagli studenti io ho appunto avevo un'esperienza costante di di professori che mi sconsigliavano per esempio di leggere biografie o di o di leggere documenti come lettere diari che non avevano la capacità di ergersi a diciamo banco di prova di un'interpretazione di carattere linguistico semiotico strutturale definitelo come volete che era completamente prevalente era completamente prevalente nelle politiche editoriali era completamente prevalente nell'insegnamento era prevalente nei programmi scolastici ancora adesso lo è un po' rimasto perché probabilmente la 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 le le filosofie didattiche hanno delle ehm delle lunghe durate che non vengono poi mai messe in discussione possiamo mettere vogliamo dire vogliamo fare così una specie di allegoria per capire di che cosa parlo vogliamo prendere una edizione di un grande poeta del novecento che è l'esatto contrario della dell'opera della eh di di tabucchi di Maria Cosè de Lancastre ecco metterei l'opera in versi di Gianfranco Contini eh della Vettarini anche qui eh di Eugenio Montale che esce per Enaudi nel credo nell'ottantuno non nell'ottanto nell'ottantuno perdonatevi però insomma i tempi sono quelli si potrebbe addirittura a costruire una specie di storia della cultura no Adelphi che è la casa editrice di Nietzsche la casa editrice diciamo che si rivolge magari a una borghesia colta e non specialistica infatti umanistici è la casa editrice di Pessoa e Enaudi eh che pubblica l'enciclopedia Enaudi diciamo che diciamo forse tutto l'edificio teorico fondato sulla testualità e sulla religione della testualità è la manifestazione più faragginosa nello stesso tempo più importante ecco Enaudi pubblica l'opera inversa di Montale che cosa c'è nell'opera inversa di Montale c'è già Montale aveva scritto aveva annullato l'idea che in una personalità in una biografia potesse esserci un nucleo vissi al 5% no lui stesso aveva messo un po' da parte la e poi se noi leggiamo questa splendida edizione abbiamo proprio l'idea di un'opera che si genera da se stessi la cui fisiologia fondamentale è data dalle varianti e che va avanti nel nel tempo come un prodigio una prodigiosa macchina celib qualcosa che ricorda le macchine inventate di Raymond Roussel in quel meraviglioso libro che è Locus Solus e che ha una ecco vedete io non voglio dire io stavo dalla parte di Pessoa ecco come si potrebbe parlare male dell'edizione di Contini e della Bettarini anche quello è un modello esemplare oggi non siamo più certo quando ero giovane soffrivo di questa cosa perché cercavo modelli di conoscenza che si avvicinavano all'edizione di Pessoa e trovavo modelli di conoscenza che escludevano il gesto narrativo che escludevano la comprensione di un'esperienza e di un destino come nucleo generatore poi della produzione di di opere il problema oggi che sono un po' cresciuto che ho ci ho ragionato sopra e che ho cercato anche di poi di dirmi ma perché io poi aderisco anche a quell'altro modello mentalmente è perché poi la verità è questa che i metodi contano pochissimo e conta l'adeguamento all'oggetto il problema di una cosa è Eugenio Montale e una cosa è Fernando Pessoa ci sono scrittori che riescono diciamo a fare della loro opera anche questo è un trucco un'illusione tutto nella letteratura è trucco qualche cosa che sembra muoversi spinta da leggi e da energie interne ci sono altri scrittori che rimandano a una specie di luogo misterioso che non è più l'opera se vogliamo ipostatizzare queste due categorie la vita e l'opera no che sono tutte e due entrambe insensate ci sono scrittori che sembrano generare in una specie di terreno grigio tra l'una e le altre questi scrittori impongono un Tabucchi impongono la capacità di raccontarlo perché cosa vuole raccontare Antonio Tabucchi vuole raccontare una serie di testi perché intanto questi testi sono come dicevo prima sarebbe già difficile perché sono attribuiti a personalità diverse sono contraddittori sono non creano non creano forme di coerenza che producano intellegibilità da quel punto di vista ma soprattutto lui è affascinato da un'immagine lui è affascinato da un'immagine che è caratterizzata fondamentalmente da una dicotomia da una parte c'è diciamo Fernando Pessoa che non era un amico di Tabucchi era morto molto prima che Tabucchi nascesse insomma ma caratterizzato per univoca testimonianza no di alcuni tratti che poi diventeranno evidentissimi nel libro diventano evidentissimi alla lettura del libro dell'inquietudine che sono i tratti della regolarità della vita impiegatizia di carattere diciamo un po' kafkiano delle abitudini di una certa anche mistizia esistenziale di un modo di essere dentro e fuori le cose che caratterizzano quell'uomo anche da un punto di vista di un esteriore nemmeno normalità ma quasi qualche cosa di più della normalità qualche cosa che rimanda alle abitudini di vita regolare alla solitudine alla pratica della solitudine a un certo esercizio prolungato della malinconia quasi come di una tecnica di meditazione qualche cosa che appunto rimanda a un segreto dall'altra parte nel quel luogo che possiamo definire l'interiorità c'è qualche cosa di completamente diverso c'è una c'è un uomo che potrei definire non euclideo non e tabuchi in maniera splendida individua questa 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 caratteristica quando ci parla voglio proprio citare la presenza all'interno di quest'uomo segreto di una temporalità e di una spazialità interiori che non corrispondono a quelle interiori a quelle precisa ulteriormente lo scrittore a quelle aristotelico cartesiane ecco questo è il punto per il quale appunto mi permotto di dire serve il narratore non per fare chiacchiere e per mettere un po' di color locale o di Lisbona o di guardate che questa duplicità per esempio è colta in molto cinema contemporaneo portoghese che sviluppa dei personaggi che molte volte assomigliano ricordo un film come i ricordi della casa gialla sviluppano un personaggio che corrisponde esattamente all'intuizione narrativa di Tabuchi un personaggio prevedibilissimo in cui il massimo di prevedibilità esteriore corrisponde a un massimo di imprevedibilità interiore per questo mi permettevo di definirlo non euclideo i due piani dell'esterno e dell'interno non sono sovrapponibili c'è uno scollamento uno scollamento che impone di raccontare questa persona così come racconteremmo qualcuno che abbiamo inventato ammesso che sia una distinzione così importante la descrizione di una persona realmente esistita è quella di una persona inventata perché poi la mia esperienza mi dice che comunque noi dobbiamo creare dei criteri di immaginabilità nella mente del lettore quindi diciamo diventa un po' il discorso accademico quello tra fiction e non fiction perché noi sempre quella cosa dobbiamo fare dobbiamo creare uno spazio comune in cui l'immaginazione funziona bene e come funziona bene il racconto che fa del racconto prolungato negli anni che fa Tabuchi di Pessoa proprio perché non si dimentica mai questa caratteristica essenziale qual è la posta in gioco della poesia ma vorrei dire la posta in gioco dell'arte in generale è la trasformazione dell'esteriore in interiore è il luogo in cui il mondo viene visto dopo che è entrato è il luogo dell'elaborazione di un'immagine poetica del mondo che è anche un'immagine credibile del mondo a questo servono i poeti a sostituire al fatto che noi non possiamo credere a nulla l'autenticità di un processo di interiorizzazione che di per sé è credibile se leggiamo paghe stelle dell'orsa di leopardi possiamo pure pensare che il cielo non esiste però in quel momento è esistito per un singolo essere umano e forse è l'unica cosa importante che ci portiamo nella tomba insomma è questo tipo di di esperienza ripeto questo tipo di esperienza è alla sua necessità come probabilmente invecchiando mi sono convinto io ho avuto un pochino il torto magari in gioventù anche nel mio primo libro di mettere una cosa contro l'altra no volevo solamente ragionamenti come quelli di Tabuchi ma ho capito tante cose ho capito che ci sono oggetti del ragionamento critico estetico che non hanno bisogno di essere narrativizzati non hanno assolutamente bisogno perché come dicevo prima il carattere di testi prevale sul sul momento generativo sul momento l'insoddisfazione di Tabuchi rispetto all'atteggiamento del genere non ha un motivo che è semplicemente proprio all'orientamento di Tabuchi voglio dire è anche una e questo è meraviglioso è anche un accordo con l'oggetto è una maniera non di prevaricare come poteva essere accusato da i cultori della disciplina in senso strutturale ma anzi è un atto di umiltà e mettere a disposizione dell'oggetto di indagine tutto il proprio talento non per far vedere il proprio talento ma perché così si capisce l'importanza dell'oggetto di indagine e questo è il grande discrimine tra chi fa lo critico scrittore semplicemente appunto affliggendo il lettore con una panna montata stilistica che ha non ha quanta roba leggiamo uno dice ma perché scrivono romanzi su Emily Dickinson ma non basta Emily Dickinson quel senso di inutile che proviamo è riscattato da operazioni narrative che invece ci portano perché poi tutte le cose guardate non vanno vanno giudicate dai risultati per questo sono partito da dire provate a immaginarvi Pessoa senza tabucchi provate a immaginarvi non è che lo dico perché lui ha portato realmente elementi e sono questi che giustificano un'operazione non i presupposti sono tutti buoni a sbandierare i propri presupposti nel nostro lavoro contano solo i risultati conta solo la conoscenza che noi produciamo perché la conoscenza di per sé è qualcosa che ha a che fare con l'esperienza della bellezza non sono e allora mi sono chiesto a che genere letterario appartengono gli scritti di Tabucchi su Pessoa appartengono alla critica alla filologia alla narrativa alla e mi sono trovato di fronte al fatto che ci più che una genealogia più che una tradizione più che diciamo un rapporto di filiazione reciproca ben delineabile di questo tipo di scrittura esiste una specie di genere senza nome un genere che Tabucchi pratica veramente a un livello di 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 unisce appunto competenze linguistiche filologiche e abilità narrative in cui vanno a confluire come in tutti questi generi misti di confine quella che è la biografia fin da dal modello plutarchesco la critica letteraria in qualche maniera anche l'arte del ritratto l'arte del ritratto verbale così come non so un grande pensatore come Emil Choran ha fatto una meravigliosa antologia su come si crea un ritratto con le parole non con la fotografia con la pittura la l'elogio di marca settecentesca il addirittura la geografia no? quando in qualche maniera il l'artista considerato viene quasi avvolto in un crisma di di santità in cui poi le opere sono i miracoli no? quindi insomma i modelli narrativi sono sono molto vari se ne potrebbero aggiungere altri credo di avere di avervi accennato a quelli fondamentali esempi che possono avere una pertinenza diretta sono una volta che rinunciamo a capire esattamente da chi tabucchi prende l'avvio no? però ci sono c'è una costellazione che è molto più significativa perché vedete quello che tabucchi fa per il valore poetico di Pessoa ad esempio è la caratteristica ugualmente scandalosa ugualmente controcorrente ugualmente eretica è il bellissimo saggio che Anne Arendt scrive nel 1968 su Walter Benjamin che già dal titolo Lomino Gobbo il pescatore di perle ci parla di qualcosa che non è esattamente l'analisi filosofica di un pensiero come viene praticata diciamo nei luoghi in cui vengono studiati interpretati i filosofi qui addirittura la posta in gioco è sottilissima perché diciamo Anne Arendt non si accontenta esattamente come Tabucchi diciamo considerando l'opera di Pessoa e non si accontenta dei risultati di un pensiero non si accontenta di una serie di testi tra l'altro frammentari e quindi quasi intrinsecamente eteronimi come quelli di Walter Benjamin anche là lei dice da che cosa è generato questo pensiero è addirittura una cosa che non non è mai stata considerata nella storia della filosofia il rilievo sapete chi è l'omino gobbo del titolo l'omino gobbo è una cosa che esiste in tutti i folclori in tutte le è quello che ti fa andare storto le cose che tu ti perdi gli occhiali che ti si rompono le cose sono delle persone le conosciamo tutti o in certi giorni siamo noi vittime dell'omino gobbo Anna Arendt comincia il suo ritratto di un grande pensatore dicendo c'è una legame tra questo pensiero e il fatto che a questo uomo andasse tutto storto beh insomma sono due poli ecco come è lontanissimo il polo l'arco voltaico che unisce il polo dell'impiegato Pessoa a quello dei suoi meravigliosi eteronimi che fanno esplodere il loro destino di artisti simultaneamente alla breve vita di Pessoa eccetera così questi due poli sono sono quelli di una indagine che poi però è rigorosissima non è il raccontino su un amico che era anche un grande filosofo questo è quello che per questo mi sembra giusto accomunare quando uscì nel 1981 vedete perché insisto sulle date quando il saggio di Anna Arendt uscì pubblicato dal mulino in un libro molto importante il futuro alle spalle e mi ricordo anche se ne parlava tantissimo perché se ne parlava tantissimo perché in realtà non era appunto se 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 tabucchi non è il critico scrittore Anna Arendt non è la filosofa scrittrice ecco non è un quel saggio quel modello di interpretazione nonostante tutto quello dei nostri professori ci dicevano che era come il male proprio leggere cose del genere invece era un modello rigorosissimo di lettura del pensiero di Walter Benjamin di comprensione della sua eredità comprensione dei punti ancora vitali pensiamo quanto dal 68 a oggi tutto postumamente Walter Benjamin ha avuto un effetto nella filosofia che è paragonabile a quello di di persone la storia della poesia altri giganti che dal passato del novecento poi hanno attraversato il cambio dei secoli dotati di interpretazioni incredibili e queste interpretazioni sono sempre delle dei dei racconti a forte coloritura a forte non voglio dire coloritura perché non è l'aspetto esteriore di forte interesse biografico che però non sono delle biografie perché la biografia è tutt'altro genere questo è non ha a che vedere con la biografia la biografia comporterebbe molti elementi diciamo che riguardano una totalità di informazioni che farebbe perdere il filo di queste operazioni eseggetiche credo che Anna Arendt possa aver avuto per le mani quello straordinario bellissimo libro del 1940 di Virginia Woolf che si chiama Roger Fry lì addirittura Roger Fry era un caro amico di Virginia Woolf è un libro di lutto di mancanza ma lì addirittura ed era un uomo molto importante nella storia dell'arte perché è alle battaglie culturali di Roger Fry che ad esempio si deve una importantissima componente della pittura del Novecento che è il post impressionismo lui fa delle mostre attribuisce valore a certe opere quando non le attribuisce nessuno subisce molti anche quella cosa lì Virginia Woolf la racconta come una grande storia di una specie di Peter Pan che vede nell'arte con tanta intensità quanta è la sua incapacità di adattarsi al mondo questo tema dell'essere disadattato vedete è fondamentale perché ricorre in tutti gli scritti in cui ho parlato adesso disadattato può sembrare una parola generica e forse troppo feroce però c'è qualche cosa che accomuna un grande poeta come Pessoa un grande pensatore come Walter Benjamin un filosofo dell'arte come Roger Frye che è una specie di elemento particolarmente vitale e di interpretazione delle cose del mondo che nasce da un mancato accordo cioè qualche cosa che appunto da un da un da un'esistenza che che ha in sé motivi di di reciproca repulsione col col mondo questo voglio battere su questo tema perché questo è un grande tema romantico aggiungerò a questa costellazione che mi sta venendo tutta femminile la perché esce nel 1980 quindi siamo proprio sempre nell'ambito di cose che possono essere state lette o meno da da Tabucchi prima o dopo è la stesura dell'introduzione a una sola moltitudine beh ci metterei anche tornando proprio nel campo della letteratura nel campo della comprensione di una delle più grandi imprese del novecento il saggio su Mishima e la coscienza del vuoto di Margherita Yurzenar indubbiamente ci vedo anche qui un'assonanza profonda l'immagine di Mishima che il giorno del suo suicidio rituale di cui Margherita Yurzenar tra l'altro non pensa nulla di particolarmente buono diciamo non c'è un'adesione all'ideologia di Mishima ma imbusta e spedisce al suo editore l'ultimo capitolo dell'ultimo volume della quadrilogia del mare della fertilità e poi raggiunge diciamo il mondo degli avi il mondo degli archetipi con quel suicidio che così è rimasto nella coscienza del mondo come uno dei grandi enigmi sul rapporto tra arte e vita nel novecento quello il racconto della Yurzenar è un'altra riprova che noi a un certo punto abbiamo degli oggetti ci troviamo di fronte cioè degli oggetti che non possono essere non è possibile praticare una dissezione chirurgica che separi il processo dal prodotto per dirla nella maniera più in qualche maniera il processo è la parte più come io sono il primo ad ammettere che ci sono opere in cui il cordone umbilicale col processo è molto ridotto se non tagliato ci sono opere in cui il cordone umbilicale anzi è la parte più interessante di tutto e questo dato che ho citato Antonio Tabucchi Margherita Yurzenar Virginia Woolf e Anna Arendt come si potrà sospettare questa è un affare da grandi scrittori ma non perché questi grandi scrittori utilizzino un privilegio allora magari fanno meno fatica del professore che va a trovare i libri e fa quello è un'idiozia è un mito bisogna sempre stamparsi proprio sopra lo schermo del computer una frase di Proust che dice il dilettantismo non ha mai portato a nulla qua non stiamo parlando di dilettanti noi stiamo parlando di interpreti che hanno colto una complessità nell'opera che gli è stata affidata che era impossibile da tramandare utilmente al futuro se non attraverso un'operazione narrativa un'operazione narrativa che mettesse in luce come principio generatore delle opere un disaccordo tra il soggetto del mondo vogliamo parlare di modelli italiani che Tabucchi potrebbe avere conosciuto anche là il discorso è molto interessante ma è molto opinabile lo posso fare solamente perché questo mi permette di aggiungere a questa costellazione due libri meravigliosi che sono il mio sudalizio con The Pisces di Giovanni Cominso del 54 dove appunto Cominso ci parla dell'opera di questo grande pittore attraverso un intarsio un mosaico di aneddoti che riguardano la sua vita notturna la sua follia la sua genialità la sua capacità di avere affetti in cui l'opera diventa spiegabile in una maniera che non che non avrebbe che avrebbe sicuramente altre maniere più oggettive diciamo ma che quando finisce il libro Cominso dice una cosa che forse potrebbe suonare come epigrafe a tutto questo ragionamenti dice non è tanto l'amico che è appena morto non è solo quello è che ogni persona che muore si porta via dietro per sempre tutto il mondo così come lo vedeva e questa è la la posta in gioco cogliere cogliere il mondo cioè la perdita del singolo individuo non è solo quelle cose un po' il grande artista il grande poeta che se ne importa insomma è proprio quello che ci dice Cominso è una cosa molto più tragica anche più bella più intensa ci dice non è solo di The Pieces che vi sto parlando ma quando lui ha chiuso gli occhi l'ultima volta lo racconta facendo le scale dell'ospedale perché lo va a trovare l'ultima volta e sa che non lo vedrà più tutto quello che ha visto tutto quello che ha pensato quella particolare irripetibile configurazione del mondo che era quello che lui vedeva non la sappiamo più allora la testimonio tutti questi lavori sono dei lavori in cui il passato viene raccontato per essere trasmesso verso il futuro oggi stiamo ancora parlando di Pessoa di Tabucchi perché è successo questo tipo di lavoro artistico questa possibilità delle cose di attraversare il tempo perché sono narrate nella maniera giusta assieme a Cominso forse ancora più vicino al giovane Tabucchi tra l'altro studioso della cultura anarchica toscana è la libro del settantuno un testo meraviglioso del settantuno di Romano Bilenchi che si intitola I silenzi di Rosai questi due libri su pittori potrebbero avere ma vedete quando parlo di queste cose adesso torno a una sola moltitudine a un baule pieno di gente ho messo tanti in fondo perché dico non c'è una tradizione non c'è una perché appunto questo non è un genere indubbiamente che appartiene alla biografia perché è troppo selettivo non appartiene alla narrativa in senso stretto perché parla di persone reali e perché ha un'utilità pratica cioè qui stiamo parlando di opere che presuppongono altre opere se no non esisterebbero perché se fossero inventate sarebbero inventate con più funzionalità narrativa non stiamo parlando esattamente di critica letteraria perché indubbiamente questo tipo di procedimento deve dar luogo a delle ipotesi quando noi animiamo una persona reale nella sua totalità noi siamo sempre nel campo dell'ipotetico noi raccontare significa formulare continuamente delle ipotesi sul personaggio che noi stiamo raccontando e quindi usciamo anche da quelle leggi a mio parere tutto questo testi non hanno un diretto rapporto di filiazione tra loro anche se per esempio io sono sicuro che il testo sul rosai di bilenchi è un testo che non possa non essere stato amato dall'autore di piazza d'Italia ma non è questa non mi interessa la filiazione diretta non mi interessano le letture non mi interessa creare di un genere letterario che non ha nemmeno nome io una storia non sono nessuno per farlo vorrei aggiungere però che ognuno di questi testi risale autonomamente a una comune matrice romantica questa è la cosa più importante anzi diciamo che all'interno di questa definizione perché sapete quello che c'era prima è legato a un accordo fondamentale tra l'artista di cui si parla e la società questo è l'elogio settecentesco se noi prendiamo la vita di Condiac di Voltaire o la vita di Samuel Johnson del suo fido James Boswell sono dei libri meravigliosi ma sono dei libri che hanno proprio il contrario di quello che noi cerchiamo diciamo nell'artista e nel senso della sua esperienza dopo il romanticismo sono delle dimostrazioni che la società francese la società inglese avevano bisogno di questi eroi della cultura che anche se hanno un momento di difficoltà iniziale all'essere accettati diciamo in analogia questo riguarda proprio uno schema dell'eroe da giovane che deve vincere delle difficoltà ma poi la provvidenza ha portato ha fatto venire al mondo e fiorire proprio come termine tecnico delle biografie la quando comincia qualcosa di diverso quando si comincia a percepire nella cultura romantica che è il disaccordo a creare la visibilità del mondo è l'essere che che non 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 trova pace che non ha casa nella terra il viandante il è l'uomo che vive ai bordi delle convenzioni sociali il pazzo il santo come può essere declinato da una cultura ormai secolarizzata come quella romantica in cui appunto le veci del miracolo verrà a farle l'opera e quando in una bellissima lettera sulla poesia scritta da Roma poco prima di 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 morire nel 20 nel 21 John Keats scrive al suo amico Brown la vita di Shakespeare è un'allegoria noi sentiamo esattamente come si è cambiato non c'è più l'elogio degli enciclopedisti non c'è più la l'idea di una provvidenzialità della vita dell'artista anzi è la cosa meno provvidenziale del mondo è quel guasto del meccanismo della società e del meccanismo della natura che produce bellezza allora è certo che se devo individuare in questa storia un crocevia la persona cioè lo scrittore che più ha dato forma ma una forma inestinguibile una forma a cui molti scrittori sono ricorsi personalmente a a questo tipo rinnovato di 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 racconto diciamo profondamente così nuovo che poi nessuno ci ha pensito a definirlo bene appunto è rimasto qualcosa che come una risultante all'incrocio tra i generi come avete visto mi viene più facile descriverlo per quello che non è per quello che è indubbiamente andiamo a metà del secolo tra il 1852 e il 1856 eh sono i i saggi sui due saggi di su Baudelaire e di Edgar Allan Poe io credo che lì sia cambiato proprio eh per sempre la cioè che non è che si è cambiato si sia aggiunta una possibilità perenne di descrizione dell'esperienza artistica il primo saggio esce in rivista nel 1852 nel 1856 invece escono le traduzioni le situazioni straordinarie credo che si intitoli del dei racconti di Poe fatto da Baudelaire e viene rielaborata questa intraduzione e là c'è tutto c'è tutto perché c'è proprio un tema agnostico profondissimo in Baudelaire che è che è quello del mondo come deserto proprio un tema agnostico nel senso proprio l'anima di un individuo irripetibile come Edgar Allan Poe non sta bene non sta bene nell'assetto del mondo non sta bene tra i suoi simili questo non stare bene questo non aderire esattamente sono partito da un non aderire in persona tra mondo interno e mondo esterno no? questo è la matrice è la selce da dove esputa le scintille della bellezza Baudelaire è chiarissimo in queste cose tanto da dare proprio al suo racconto uno schema geografico straordinario certamente perché Baudelaire era Baudelaire tabù che è più ironico più moderno non gli salterebbe mai in mente di dire che Pessoa è un santo sarebbe una cosa anzi decritica le posizioni filofasciste è molto sempre libero rispetto al modello di Pessoa però lo scollamento che descrivono è lo stesso la condizione dello scollamento tra il racconto che di se stesso fa il mondo e il racconto che fa la singola persona chiamatela anima chiamatelo principio cosciente chiamatelo destino ma comunque quell'espressione assoluta della singolarità che è un artista come Edgar Allan Poe quello è dice Baudelaire proprio noi vediamo lo sfortunato parla di un fatto biografico che poi è normale per gli americani non si rende conto di questo gli americani cambiano città molto più facilmente di noi europei noi vediamo lo sfortunato levare la tenda come un beduino del deserto e trasportare i suoi leggeri penati nelle principali città dell'Unione vedete non è dice cambiava perché faceva il giornalista e aveva impieghi in varie redazioni anima perché questa è l'America di l'America di Baudelaire è già l'America di Kafka è già un luogo dominato da un principio di utilità che è come un immenso apparato respingente per l'anima dell'artista quindi come come vive l'artista Edgar Allan Poe in un posto come la me basta citare la parola ormai nel 1852 Kafka tanti anni dopo avrà buon gioco basta scrivere America quello pensiamo pensiamo a un luogo dove l'economico prevale sul simbolico dove la letteralità prevale sull'allegoria dove la collettività prevale sui diritti del singolo individuo ma il singolo individuo che produce arte non mai la collettività mai l'ideale collettivo e questo infatti è messo sotto un altro segno proprio di carattere gnostico Anna Arendt che sicuramente conosceva il saggio di Baudelaire parlava di Walter Benjamin parlava come di una dell'uomo scalognato nel senso che perdeva la matita e qui Baudelaire inizia tutte le due le redazioni di questo saggio con richiamo proprio all'angelo cieco dell'espiazione e il tema gnostico diventa un tema cristologico l'artista in un mondo ormai totalmente secolarizzato in cui i santi non hanno nessuna importanza da un punto di vista simbolico spirituale spirituale le prerogative della santità sono assunte da quella che si potrebbe chiamare l'esistenza artistica la capacità creativa che appunto produce quelli che i santi erano i miracoli attraverso le opere attraverso una serie straordinaria di racconti come quelli che traduce Baudelaire o come un pensiero come quello di Benjamin scritture illuminanti irreversibili come quelle di Pessoa o di Mishima questo tipo di racconto è lì per renderne conto renderne conto vuol dire anche percepire l'individualità e l'irripetibilità degli esseri viventi al di là di quello che fanno poi noi parliamo di scritture che sono destinate all'intendimento di percorsi artistici non stiamo parlando di casi clinici o di di altre maniere di rendere conto di esistenze in qualche maniera a metà del suo secolo Baudelaire è diciamo l'inveramento dell'idea di Keats quella cosa stupenda appunto che scrive al suo amico Charlie Brown mi diverte sempre che si chiama Charlie Brown il migliore amico di Keats ma che ve lo ripeto dice con una sicurezza dell'illuminato guarda che la vita di Shakespeare è un'allegoria cioè è un meccanismo di senso in cui noi ci possiamo rispecchiare in quanto lo rendiamo individuale in quanto lo rendiamo irripetibile in quanto lo raccontiamo Keats non ha trovato forse il suo Baudelaire però è il profeta della nuova epoca ed è il nostro profeta perché noi siamo in questa cosa figli dei romantici noi intendiamo l'artista potrei andare all'oggi la biografia di Philip Dick di Io sono vivo e voi siete morti di Emanuele Carrere è da questo punto di vista un testo romantico eccellente per conoscenza filologia documentazione capacità di leggere la filosofia di Dick ma è proprio dal primo all'ultimo giorno è la vita di un di un californiano che non capendo la dinamica del mondo che è interno crea una cosmologia così come Walter Benjamin incapazio incapace di esistere crea un pensiero illuminante sono cose che possono arrivare il ricorso romantico può essere inconscio può essere conscio però è quello noi veniamo da quella cosa lì Tabuchi viene da quella cosa lì ma potrei citare moltissime altre sue passioni potremmo stare un pomeriggio a parlare del rapporto tra Tabuchi e Stevenson voglio dire non è che siamo talmente lontani da l'altra cosa diciamo la vita di Shakespeare è un'allegoria la grande risposta a Edgar Allan Poe di Baudelaire sta in un verso di Tracl forse il verso più famoso di Georg Tracl che dice l'anima è straniera sulla terra perché in quest'essere straniera che i romantici hanno individuato il criterio no nemmeno il criterio poi la matrice generativa di un'immagine del mondo che prima non c'era in questo non esserci prima è in buona parte quello che noi chiamiamo la bellezza la bellezza è qualcosa che si caratterizza proprio anche per il suo aspetto inedito questo è una cosa che le filosofie estetiche dall'antichità oggi hanno visto beh però non si realizza da sola non si realizza come se una storia letteraria o artistica fosse una una specie di forno automatico in cui tu metti una certa quantità di elementi sociali una certa quantità di cambiamenti storici alcuni procedimenti retorici un certo livello di evoluzione della storia della lingua e vengono fuori le cose ecco questa cosa qui è un po' stata la nostra diciamo il motivo del disagio di tante persone della mia età nel momento in cui studiavano perché non sentivano non si sentivano eppure era una didattica tollerante in cui entravamo anche il rapporto di amicizia con le persone che ci insegnavano però è come se ci fosse stata proprio un'incomprensione reciproca su questo punto qualcosa che ci veniva detto che era inutile che si va bene tabucchi però bisognava fare altre cose e poi quando andiamo a a vedere appunto sullo scaffale da cui sono partito quali sono i libri che veramente ci hanno aiutato non sono necessariamente libri che abbiamo imitato io non mi è mai capitato nella vita di fare una cosa come quella che hanno fatto tabucchi e maria cosa dei lancastre perché non mi è mai capitato un gigante da rimettere in circolazione non l'ho non l'ho trovato sarà stato il destino sarà stata sarà stata la anche la forse ci sono più forse Pessoa era l'ultimo però non è quello non è quello il debito il debito riguarda sempre la libertà e la libertà a mio parere è la possibilità di scegliere senza nessun condizionamento esterno la lingua adeguata al fenomeno che si vuole descrivere e questa è la premessa fondamentale è che anche i condizionamenti esterni più prestigiosi tacciano ecco io credo che tabucchi ci abbia insegnato una cosa ha avuto una grande occasione una grande responsabilità ben oltre le sue prerogative di professore e ha trovato la lingua ha trovato gli strumenti narrativi empatici stilistici vi richiamo la suggestione del professor Bettini per per fare il suo lavoro come se non esistessero le eresie o le cose ortodosse le maniere le maniere di fare le naudio e la delfi ma semplicemente perché quello che noi dobbiamo al passato è rispondergli e tramandarlo nel futuro con quanto di meglio sappiamo fare ecco io a questo punto vedo che sono le 17 e 59 spero di non avervi preso troppo tempo sono contente e onorato che mi abbiate chiesto senza dubbio preoccupato del fatto di non essere stato in grado perché al di là di ogni retorica questo è veramente un onore per me vi restituisco la parola sperando di non aver abusato della vostra pazienza e vi ringrazio tutti davvero tanto spero che con Guido troveremo un'altra occasione che possa venire davvero a Siena che già c'eravamo pregustati un po' una passeggiata una vacanza tanti amici Stefano Dalbianco Emanuele Carbele insomma persone vecchie e nuove da conoscere purtroppo non si può avere tutti della vita come dice la regina Elisabetta il covid stanca molto quindi perdonatemi anche un se certe volte ho perso il filo eccetera però sono ancora molto provato come vedete dalla faccia probabilmente e dato che io non ho un ritorno immediato della cosa interrompo e vi ridò diciamo la parola ringraziamo grazie Emanuele Trevi per questo per questo percorso che parla che è partito con un appunto del professor Bettini sullo stile e che finisce appunto è finito su un commento sulla sulla lingua sulla lingua di Tabucchi è stato un percorso molto ampio che ha spazzato molto e talvolta per quanto mi riguarda mi hai preso in contropiede aspettandomi dei percorsi diversi e forse un po' più battuti rispetto alla tua scelta sicuramente molto acuta e molto molto originale e hai parlato di molti temi sarei tentata di farti delle domande però il tempo è breve ci sono molti ospiti vedo anche che è collegata alla professoressa Maria Giuseppe della Castre che nel momento in cui vedo che ha ha alzato la mano e quindi le do con molto piacere la parola volevo ringraziare cominciando da Pellini da tutta questa bellissima serata lo stesso gli amici Maurizio Vittini Roberto Francavilla e Riccardo Greco io sono qui con un allievo di Siena Timoti Basi non ha conosciuto Antonio ma perché era troppo giovane ha conosciuto assistito all'ultima lezione di Antonio e lavora qui con me all'archivio che ho a casa volevo ringraziare Emanuele Trebi per questa straordinaria lezione che non dimenticheremo ho preso tanti appunti e volevo dire una piccola cosa che negli ultimi tempi Antonio quando era già malato è stato malato diciamo poco tempo si può dire così cinque mesi e in quei cinque mesi ha tentato di scrivere una qualcosa di finzione che riguardava Walter Benjamin e che si chiamava il piccolo Gobbo grazie a tutti grazie naturalmente ci sono molte persone in sala e anche via Webex se qualcuno volesse intervenire può alzare diciamo farsi vedere qui in aula oppure alzare la mano via Webex se non ci sono degli interventi forse visto che Emanuele Trebi ha citato più volte giustamente il libro dell'inquietudine abbiamo al tavolo il professor Francavilla che forse vuole aggiungere o commentare ulteriormente avendo curato il secondo libro dell'inquietudine o se vuole diciamo aggiungere un commento no io aggiungo una cosa che sono sono 40 anni dalla prima edizione italiana anzi dalla prima edizione in generale ed è un momento importante perché questo è un testo devo dire abbiamo dedicato una giornata di studi al libro dell'inquietudine due settimane fa a Genova ed è un testo assolutamente attuale che continuiamo a rileggere io ho curato la seconda parte e c'è un grande dialogo fra una prima parte che è proprio quella che è uscita per Feltrinelli è curata da Maria Giuseppe e da Antonio Tabucchi e questo Bernardo Suarez è un personaggio che circola nelle vene di tutti noi non è un eteronimo un semieteronimo e credo che in molti scritti di Antonio penso soprattutto al Requiem ci sia un Bernardo Suarez che percorre le strade di Lisbona in quel delirio di agosto di luglio in quella città caldissima in quella giornata caldissima e quell'inquietudine quel de Sassossego come è la parola portoghese è una è una cifra della scrittura di Antonio che è leggibilissima ecco questo sì non vorrei parlare dell'opera di più perché non ha senso c'è una domanda da parte del professor Mazzoni mi rivolgo ad Emanuele che dovrebbe essere da qualche parte la grazie davvero perché era sono qua sì sì è proprio quello quello che avevamo in mente per inaugurare questo questo ciclo di di lezioni e volevo chiederti questa cosa nel delineare la genealogia ideale che parte da Tabucchi che scrive su Pessoa e passa attraverso i nomi che tu hai citato Arendt Wolf Yustenar commisso fino a Baudelaire su Pau tu hai anche idealmente tracciato una sorta di genealogia della tua scrittura di alcuni 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 dei tuoi libri penso a Senzaverso penso a qualcosa di scritto penso a sogni e favole in qualche modo rientrano perfettamente in questa linea ideale che tu hai tracciato ecco volevo volevo chiederti se questa questa mia impressione incontra diciamo il il tuo il tuo favore guarda Guido diciamo una cosa anche un po' didattica visto la cosa è chiaro che noi non dobbiamo mai dimenticarci però del fatto che dobbiamo un po' adeguarci all'oggetto e questo è una cosa di umiltà che diventa anche poi una grandissima riserbatoio di energia creativa perché altrimenti no io fin da giovane diciamo sono andate bene delle cose che scrivevo con questa cosa che cosa succede poi no che poi finisci come si diceva no una volta adesso avevamo citato il mio amico Cesare Garboli no che garbolizzava no tutto a trovare il rischio io credo che bisogna sempre tenere presente questo questo rischio qua cioè io sono convintissimo io adoro questo genere adoro essere un critico letterario quando mi dicono critico scrittore dico risparmiati alla seconda se faccio bene il critico mi basta per una vita che mi importa a me di fare lo scrittore come e quello che io non voglio mai dimenticare è che ogni avventura è diversa e che moltissimo di quello che noi attribuiamo al nostro metodo in realtà dipende dalle asperità dell'oggetto tutti gli oggetti sono difficili e ogni difficoltà ha bisogno di uno stile diverso questo io credo la cosa che più mi terrorizza è l'uniformità no? perché poi soprattutto se le cose ti vengono chieste perché hanno un loro successo così eccetera tende a prevalere la tua retorica rispetto alla cosa che vuoi descrivere grazie anche per questa risposta non abbiamo altri interventi altre domande d'altra parte il pomeriggio è stato molto lungo intenso quindi beh peccato non essere stato là ecco questa è la però non si può avere tutto dalla vita dai speriamo di averti con noi presto sì davvero mi dovete rinvitare adesso assolutamente capito ci aspettiamo grazie grazie a tutti gli intervenuti e grazie a chi è stato che è stato con noi questo pomeriggio e l'appuntamento saluto Roberto a tutti quanti adesso Stefano tutti gli amici non so fare a salutarli tutti l'appuntamento all'anno prossimo per la seconda lezione Sabucchi grazie